ciao ragazzi benvenuti sul mio canale in questo video voglio mostrarvi le borse che vi ho fatto vedere precedentemente nel video spacchettamento avon campagna 14 allora le potete acquistare come ho detto da campagna 14 a pagina 155 ad un prezzo di 4,99 ne potete avere due a 7,90 allora le lettere sono la fino alla lettera b la borsa nel 94 per cento di cotone 5 per cento di viscosa e le misure sono 36 per 7 per 40 centimetri allora andiamo subito ad aprire a meno una delle due per farvi vedere ci tenevo molto perché sono veramente bellissime allora le ne apro una sola tanto alla fine sono uguali cambia solo la lettera stampata sopra allora eccola qua veramente molto bella abbiamo anche questa scritta sul retro eccola qua sempre di questo bellissimo colore oro però non ha i brillantini mentre dall'altro lato abbiamo questa bellissima lettera r guardate quanto è bella è molto lucidante non so se dal video si riesce a vedere ma è veramente bellissima la mia cliente ha preso uno con la lettera a e un altro con la lettera r questo è molto utile diciamo da portare appresso per fare la spesa oppure anche così per utilizzarlo come una semplice borsa perché è veramente molto bella diciamo che è un colore delicato perché la base è molto chiara però a mi piace molto questa lettera che è una borsa personalizzata diciamo ognuno potrà scegliere la lettera che ricorda il proprio nome anche questo la vedo come un'idea regalo fatemi sapere se anche voi l'avete acquistata se avete anche voi qualche borsa con la lettera del vostro nome spero che questo video vi sia piaciuto lasciate un like iscrivetevi al canale condividete il video con tutti i vostri amici e noi come sempre ci rivediamo in un prossimo video